Musica Buongiorno dalla redazione giornalistica di Antenna Sud, primo appuntamento della giornata in diretta con la nostra informazione e partiamo parlando ancora una volta di politica, di quelle che sono state le elezioni amministrative vediamo di commentare insieme quello che è stato il turno elettorale in Puglia con il nostro direttore Gianni Sebastio Il centrosinitra cresce e si rafforza in Puglia, il laboratorio emiliano continua a mettere successi anche il Roboanti il dato che ci consegna Taranto, la città più grande di questa tornata elettorale, spinge verso un'attenta riflessione il PD appare al momento solido e organizzato, tanto da conquistare la fiducia dei cittadini fino a far ipotizzare una sorta di autonomia politica anche il solco tracciato a Napoli con il fronte progressista allargato ai 5 stelle comincia a scricchiolare il risultato dei pentastellati è stato disarmante, in questa caduta libera si tira dietro un mucchio di dubbi anche sulla maggioranza di governo che non appare più così solida il messaggio lanciato da Emiliano proprio da Taranto ha quasi il sapore della sfida qui ha detto è accaduto qualcosa che dovrebbe interessare e far riflettere tutta l'Italia poi c'è il centrodestra trainato da fratelli d'Italia ma in evidente difficoltà Forza Italia e Lega hanno viaggiato col freno a mano e la sconfitta di Musillo non può passare inosservata troppo pesante il passivo subito il centrodestra potrebbe cogliere l'occasione per ripartire con un nuovo modello non più ancorato a vecchie nomenclature non in grado di rafforzare la coalizione nonostante i vani tentativi dunque il Partito Democratico ringrazia e si prende la leadership pugliese in terra da un addirittura 11 comuni su 12 un'ultima riflessione sul civismo fenomeno politico sul quale si intravede il tramonto la mancanza dei partiti e più in generale di un'organizzazione politica di base comincia a fare la differenza l'elettore vuole sentirsi garantito non è più il momento di improvvisare candidature altrimenti a lungo andare si rischia di non avere più votanti la mancanza di fiducia porta a rinunciare al sacrosanto diritto al voto insomma un piano inclinato sul quale la biglia ha già iniziato la sua discesa chissà probabilmente verso il ritorno alla politica dei partiti quelli veri con solide basi hanno vinto dunque i programmi e non i partiti così parla il sindaco e presidente del lancio Antonio De Caro sindaco di Bari che non nasconde la preoccupazione per il dilagante astensionismo di larga parte degli elettori un problema che si riafferma anche in vista delle elezioni politiche che verranno gli elettori credo abbiano scelto più che i partiti politici visto che parliamo di amministrative la proposta con il programma magari più credibile non partiti ma programmi credibili il sindaco di Bari è presidente dei comuni d'Italia Antonio De Caro commenta il voto delle amministrative analizzando le scelte dei cittadini e la rinnovata fiducia di tanti nelle precedenti esperienze hanno premiato anche esperienze di governo positive pregresse quindi riconfermando molti sindaci alla guida delle loro città nessuno indugio sui colori De Caro stila una riflessione neutra e al di sopra delle dinamiche di partito soffermandosi piuttosto sull'astensionismo di larga parte degli elettori sono preoccupato confessa il primo cittadino sottolineando il dato sulla bassa affluenza ai seggi il sindaco è sempre stata la figura politica istituzionale di prossimità quella più vicina ai bisogni ma anche a quelle che sono le aspirazioni i sogni dei suoi concittadini quindi vedere una stensione così alta alle amministrative onestamente un po' mi preoccupa per quello che potrà accadere per i prossimi passaggi dove certamente non eleggiamo figure istituzionali di prossimità quindi è una cosa su cui la politica le istituzioni devono riflettere infine gli auguri a chi per la prima volta indosserà la fascia tricolore ai nuovi sindaci faccio l'imbocca al lupo gli auguro un buon lavoro convinto che sarà la più bella esperienza della loro vita sarà un'esperienza incredibile poter vivere le emozioni dei propri concittadini della propria comunità per questi anni per un cittadino ho detto più volte che fare il sindaco probabilmente l'attività è il mestiere più bello del mondo e ovviamente anche a livello nazionale tra vincitori e sconfitti si analizza il voto dopo le elezioni amministrative la centrodestra chiede più unità mentre i 5 Stelle fanno i conti con il calo dei voti all'indomani del voto delle amministrative si analizza la situazione politica a livello nazionale se il centrodestra nonostante le beghe interne si mostrano unito i 5 Stelle fanno la conta con i pezzi mancanti del puzzle per Salvini negli obiettivi nazionali c'è il centrodestra unito e non più una maggioranza arcobaleno a tenere ferma la posizione in queste ore è Giorgia Meloni che anche se non ufficialmente ha chiesto agli alleati di non sostenere ulteriormente il governo Draghi e questo Parlamento ma Morizio Lupi di noi con l'Italia frena su queste ipotesi sarebbe da incoscienti far cadere il governo vista la situazione internazionale e sugli equilibri dal centrodestra ammonisce per vincere serve anche il mio 2% queste elezioni hanno fatto capire che non c'è solo Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega ci sono anche piccoli o grandi noi ieri porta a porta ci dava il 2% ricordo a tutti che se prendi il 49% e senza quel 2% non hai vinto e il mio 2 vale quanto il tuo 49% il centrodestra è il vero vincitore di queste elezioni non ha dubbi Matteo Renzi per lui queste amministrative consegnano il successo di quella che chiama aria Draghi-Macron e fa registrare la fine del Movimento 5 Stelle ma l'ex premier fa un invito anche al PD dovrebbero rivedere l'alleanza con i grillini dice pensare di più al centrodestra i 5 Stelle ormai sono arrivati a livelli da prefisso telefonico in tutti i capoluoghi l'1%, il 3%, il 4% perfino l'Italia Viva ha più sindaci eletti oggi che il Movimento 5 Stelle quindi credo che è più libero per ripensare un attimo le alleanze credo che invece hanno fatto molto bene partiti più liberali democratici come l'Italia Viva ma anche come azione più Europa noi non poniamo vetti a nessuno pensiamo di voler costruire una vera alternativa di governo alla destra e quindi chi vuole costruire questa alternativa di governo alla destra sa dove può trovarci e nel Salento però le elezioni hanno avuto anche dei risvolti di cronaca è stato minacciato di morte con un commento su Facebook il sindaco di Galatone è un sostenitore manifesti funebri invece a Melendugno vediamo cos'è successo i risultati delle amministrative 2022 in Salento hanno lasciato la mano in bocca a qualcuno accade a Galatone dove il sindaco rieletto Flavio Filoni è stato minacciato di morte insieme al candidato eletto in consiglio comunale del PD Alessandro Vinci il comune di Galatone attraverso il proprio profilo aveva pubblicato il link per visualizzare i risultati definitivi e una persona ha scritto signor Filoni ha vinto stia attento un proiettile per lei e uno per il suo amico Alessandro un profilo presumibilmente falso creato con il nome di Flavio Vinci e che farebbe riferimento al sindaco Filoni ad Alessandro Vinci amico fraterno del sindaco arrivato secondo tra gli eletti con 395 voti nella lista del PD uno dei sette simboli a sostegno di Filoni che ha vinto col 50,45% delle preferenze nelle prossime ore sporgerà denunce alla polizia postale a Melendugno invece è diventato virale un manifesto funebre che celebra la sconfitta elettorale di Simone Dima candidato sindaco e Marco Potì sindaco uscente alle elezioni comunali di Melendugno finalmente sono venuti a mancare all'affetto dei loro elettori dopo anni di Marco Potì e Simone Dima felicemente lo annunciano gli elettori vincitori i resti verranno dispersi nei mari delle marine di Melendugno la neoamministrazione si dissocia uno scherzo che è stato lanciato attraverso i social e che quando ha iniziato a prendere piede è stato rimosso ma oramai aveva fatto il giro del paese e non solo attraverso i gruppi Whatsapp e chiudiamo adesso la pagina dedicata alle elezioni amministrative proseguiamo con il nostro Tg dai lavori all'ospedale di Monopoli e Fasano ai nuovi investimenti in ambito di edilizia sanitaria per la provincia di Brindisi con la prospettiva di un nuovo presidio e l'ipotesi avanzata dal governatore di Puglia Michele Emiliano a breve stiamo per mi auguro inaugurare l'ospedale di Fasano che è l'ospedale più moderno che verrà inaugurato a breve assieme a quello di Taranto stiamo cercando di capire se ci sia lo spazio per la costruzione di un nuovo ospedale qui nell'area della provincia di Brindisi o se il Perrino regge e questa è una questione che però valutata e non sparata in campagna elettorale diciamo così senza né capo né coda La sanità come priorità lo chiedono a gran voce in realtà da tempo i pugliesi e se le parole del presidente della regione Michele Emiliano si trasformeranno in atti concreti gli ospedali del territorio regionale potrebbero offrire davvero molto di più agli utenti spesso esasperati da liste d'attesa, da pronti soccorso al collasso e allora dopo i ritardi accumulati nella costruzione dell'ospedale del sud-est barese Monopoli Fasano che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2018 si attende il 25 aprile 2023 data indicata per la nuova inaugurazione pare infatti che i lavori dell'ospedale Monopoli Fasano abbiano superato il 50% accelerata subita anche dopo l'inchiesta della Corte dei Conti sui ritardi e la provincia di Brindisi sarebbe davvero un bel regalo vedere su questo territorio un nuovo ospedale è chiaro che il perrino, si sa, da anni non regge la pressione dell'utenza proveniente da tutte le città della provincia ed intanto una piccolissima boccata d'ossigeno arriva dall'ospedale di Ostuni che finalmente non è più solo Covid è stato riaperto il pronto soccorso sono ripresi i servizi di pneumologia e medicina interna ma attenzione il 118 continuerà a trasportare al perrino di Brindisi al Camberlingo di Francavilla Fontana i pazienti traumatizzati e con urgenze chirurgiche tempo dipendenti e proseguiamo a parlare di sanità con la nostra inchiesta ospedali tarantini senza medici sicuramente i pazienti già presenti non possono prendere in carico i nuovi ingressi probabilmente dovranno rinunciare alle ferie e anche alle stabilizzazioni bloccate dalla regione terza puntata dunque come dicevamo della nostra inchiesta sulla sanità emergenza estate Torniamo ad occuparci della sanità tarantina di fronte alle accresciute necessità tipicamente estive ecco quando c'è un'emergenza sulla costa per un versante l'ospedale più vicino è quello di Manduria per l'altro Castellaneta anche se siamo più nell'entroterra come si procede? Ma è una problematica annosa anche perché ora noi abbiamo problemi di personale specialmente a Manduria dove la chirurgia e l'ortopedia sono ridotti all'osso e non riescono a garantire efficacemente le urgenze urgenze che diventano drammatiche nel periodo estivo con gli incidenti stradali o le urgenze chirurgiche vere e proprie sostanzialmente quei pochi medici che ci sono o trattano i pazienti già presenti oppure si occupano dei nuovi ingressi come si fa? Non si fa perché tre persone in chirurgia non riescono a garantire le urgenze per cui i pazienti devono essere trasportati o a Francavilla o a Taranto che sono i posti più vicini Due volte abbiamo rimarcato come l'impegno dei medici spesso superi il monte ore insomma si fa riferimento a degli straordinari però ci sarà la necessità anche di andare in ferie quest'estate Ormai non sappiamo più che cosa sono le ferie dopo due anni di pandemia siamo tutti stremati e non sappiamo come faremo andare in ferie quest'estate anche perché la pandemia non è finita E a proposito di Covid c'era chi attendeva tra i medici di essere stabilizzato la regione però per quanto ci risulta ha bloccato queste procedure in questo momento oltretutto al termine dell'estate a settembre è previsto un piano di riordino che noi sappiamo bloccherà proprio quelle spese per le assunzioni è vero? Sì, siamo come ho già detto ripetutamente alla foglia pura in un clima caratterizzato da una scarsità di personale si bloccano le stabilizzazioni previste per legge nazionale in attesa poi del blocco totale di settembre non sappiamo come far funzionare gli ospedali probabilmente dovranno essere chiusi almeno uno o due nosocomini E passiamo alla crona che era sfuggito alla blitz antinarcos un mese fa arrestato dopo sei anni di latitanza il salentino Vincenzo Amato aveva trovato rifugio in casa della sua donna in Andalusia Era ricercato dal marzo 2016 sfuggito anche alla cattura dello scorso 12 maggio nell'ambito di una maxi operazione contro il narcotraffico e riciclaggio di opere d'arte arrestato uno dei 110 latitanti maggiormente pericolosi Vincenzo Amato, 45 anni di Scorrano si era rifugiato nell'appartamento della sua nuova fiamma a Benal Madena località turistica del sud della Spagna fra Marbella e Malaga deve scontare una condanna definitiva a 19 anni e 5 mesi di reclusione per associazione per telinquere finalizzato al traffico di stupefacenti l'attività investigativa è stata coordinata dalla DDA di Lecce ed eseguita dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza il più recente dei provvedimenti a suo carico riguardo una misura cautelare in carcere disposta al termine dell'operazione della squadra mobile milanese e che ha riguardato 31 individui il Salentino era ritenuto responsabile di un traffico internazionale di cocaina ascice e chetamina stando alle indagini svolte il 45enne si sarebbe rifugiato dapprima in Grecia per poi raggiungere l'Andalusia al momento non vi sono altri indagati nessuno formalmente coinvolto per aver coperto la sua latitanza e andiamo a Brindisi adesso nell'audizione dei vertici Enel alla Camera dei Deputati Brindisi è stato infatti confermato come sito strategico per le politiche energetiche post carbone in che modo però non è ancora chiaro ci è apparso quindi abbastanza evidente che in siti come appunto Città Vecchia, Brindisi in particolare ma potremmo fare altri esempi che comunque sono evidentemente per le loro caratteristiche i siti termoelettrici che sono su un demanio di carattere portuale quindi comunque sulla presenza sul mare potranno progressivamente essere interessati da questo settore della logistica sulla quale effettivamente ci sono molti interessamenti e molte prospettive Brindisi resta strategica per Enel in ottica post carbone specie in chiave logistica eppure non è ancora noto il piano industriale come dire che le prospettive restano ipotesi che lasciano ben sperare ma che no, non sono ancora certezze cristallizzate tanto è emerso dall'audizione in videoconferenza dei rappresentanti dell'azienda sulle prospettive di sviluppo nei siti interessati dalla decarbonizzazione e dalla produzione di energia elettrica in commissione e attività produttive della Camera Brindisi come altri siti dedicati alla produzione di carbone si trasformerà in polo energetico integrato una sorta di hub una sorta di piattaforma logistica insomma il futuro sarà anche green ma su come quel futuro sarà attuato almeno nel capoluogo messapico restano i soliti dubbi nel merito si chiede il parlamentare di Forza Italia Mauro Dattis quali sono le attività previste in sostituzione di quelle esistenti dall'energia alla logistica evidentemente ancora non ci sono idee chiare eppure il 2025 così lontano sembra sempre più vicino la cronaca giudiziaria incandidabilità degli ex amministratori di Ostuni dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per Infiltrazioni Mafiose lunedì si è svolta la prima udienza davanti al Tribunale Civile di Brindisi nei confronti di Guglielmo Cavallo già sindaco della Città Bianca Guglielmo Cavallo si gioca a tutte le carte per potersi candidare nuovamente alla guida di Ostuni l'ex sindaco della Città Bianca dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per Infiltrazioni Mafiose nel dicembre dello scorso anno e la conseguente istanza per la sua incandidabilità avanzata dalla Prefettura di Brindisi e dal Ministero dell'Interno affronta il procedimento davanti al Tribunale Civile di Brindisi un processo che è iniziato proprio mentre reincorso lo spoglio per le elezioni amministrative Nello stesso procedimento civile sull'incompatibilità compaiono anche gli ex consiglieri comunali Francesco Beato e Giuseppe Corona con quest'ultimo che durante l'amministrazione Cavallo ha svolto anche il ruolo di assessore dal luglio 2019 alla primavera 2021 L'udienza di lunedì è servita a incardinare il procedimento che entrerà nel vivo dopo l'estate è stato disposto dal collegio che entro il 15 settembre sarà possibile depositare ulteriori memorie difensive sia da parte delle persone fisiche coinvolte che dagli enti si tratta di un procedimento autonomo rispetto al ricorso al TAR del Lazio presentato da ex amministratori consiglieri di Ustuni contro il decreto di scioglimento del Consiglio firmato dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese il 23 dicembre scorso per accertata ingerenza della criminalità organizzata l'udienza davanti al TAR è fissata per il 23 novembre prossimo e adesso una buona notizia che arriva da Francavilla Fontana tanta apprensione ma per fortuna è stata ritrovata la ragazza di 16 anni che era scomparsa ieri sera proprio a Francavilla aveva lasciato una lettera era uscita di casa aveva inviato un messaggio vocale via Whatsapp creando dunque apprensione si era allontanata dunque questa ragazza l'episodio era stato denunciato dai genitori e i carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta che sin dal pomeriggio di ieri aveva attivato le ricerche finalizzate a rintracciare la giovane per fortuna questo appello della famiglia ha trovato esito positivo e la ragazza è stata ritrovata e dunque davvero una buona notizia parliamo adesso invece dei lavoratori Ipsos in protesta a Bari per dire no all'esternalizzazione attendono risposte su contratto, compenso e turni di lavoro in ballottaggio in ballo scusate c'è il futuro di 150 collaboratori manifestano davanti alla sede di Viale Europa Bari sono i collaboratori Ipsos e i loro sindacati di categoria che hanno proclamato lo stato di agitazione e la mobilitazione dei co-co-co per denunciare la situazione lavorativa nelle sedi italiane della multinazionale francese circa 150 lavoratori impiegati con contratti di collaborazione nelle sedi di Milano e Bari della nota società che opera nel settore delle ricerche di mercato e dei sondaggi di opinione nei mesi scorsi i sindacati hanno più volte incontrato Ipsos per conoscere le prospettive e discutere delle condizioni di lavoro tra cui turni e orari compenso e regolamentazione del lavoro da remoto nonostante le dichiarazioni di intenti e i tavoli sindacali non sono mai seguiti atti concreti spiegano e nel tempo la situazione è peggiorata in aggiunta preoccupare i lavoratori e i sindacati e la comunicazione fatta dall'azienda di voler esternalizzare la recente aggiudicazione della gara d'appalto per lo svolgimento di un servizio per conto di Tim da diversi mesi ha deciso di esternalizzare per avere un abbassamento dei costi la commessa di Tim che è la commessa che dava una grande quantità di lavoro a tutti noi non lavoriamo quasi più abbiamo una perdita all'incirca del 20% a questo si aggiungono altre commesse che visto il momento sono andate perse questo comporta in conseguenza anche una riduzione dei salari ci sono famiglie che ormai stentano ad arrivare a fine mese tra l'altro sono lavoratori a partita IVA quindi sono dei collaboratori e che sono anche scoperti di ammortizzatori sociali questo compromette l'attività di numerosi collaboratori qui sul sito di Bari che da tanti anni noi riusciamo a tenere all'interno di un percorso lavorativo di una continuità occupazionale ma purtroppo quando c'è la crisi economica sono lavoratori che hanno famiglia e parliamo adesso di taglia ai servizi sociali a Brindisi c'è una nuova denuncia che parte dal sindacato Cobas contrarietà al piano di predissesto economico del comune di Brindisi ribadito dal sindacato Cobas nell'incontro con i comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni che insieme gestiscono i servizi sociali per discutere sulle nuove gare partite in questi giorni la richiesta del sindacato è quella del ritiro in autotutela delle nuove gare pronti spiegano ad ulteriori passi per i rischi conseguenti sulla gestione dei servizi e la tutela dei cittadini e delle professionalità dei lavoratori il sindacato Cobas fin dall'inizio del piano quando è stato inaugurato il piano di predissesto del comune di Brindisi nel dicembre 2019 è stato sempre contrario ai tagli relativi ai servizi sociali perché si peggiorano le condizioni di donne che subiscono violenza di minori e quindi abbiamo una situazione estremamente grave già per tagli effettuati negli anni scorsi abbiamo chiesto la ripoca delle bandi di gare in autotutela invece così come avevamo anche denunciato che la piattaforma su cui si svolgono le gare era non funzionante loro lo sapevano già da parecchio tempo ci sono una serie di motivi che ci mettono nelle condizioni di essere fortemente critici nei confronti dell'amministrazione il dirigente dei servizi sociali ci riferisce appunto che i soldi sono quelli come se dovessimo accettarli per forza come una sorta di elemosine noi chiediamo una revisione del piano di predistesto e soprattutto abbiamo letto anche che ci potrebbero essere delle possibilità di una richiesta di aiuto al governo centrale per i comuni in predistesto e parliamo adesso di forze armate il direttivo nazionale della Siam il sindacato nazionale dell'aeronautica militare si è riunito a Martina Franca diversi gli argomenti trattati tutela diritti ma anche orgoglio e voglia di fare con lo sguardo al futuro il Siam il sindacato dell'aeronautica militare è un'organizzazione sindacale relativamente giovane eppure già apprezzata in tutta Italia non è un caso quindi che il direttivo si sia riunito nei giorni scorsi in Puglia nel Tarantino a Martina Franca in un momento storico importante per i sindacati alla luce delle recenti novità legislative siamo un sindacato che ormai da tre anni abbiamo appena fatti sta operando in maniera molto forte energica nel settore appunto della difesa siamo il sindacato dell'aeronautica militare il Siam siamo la massima espressione in questo senso perché siamo il sindacato più più numeroso dal punto di vista di iscritti della forza armata e abbiamo deciso di fare questa riunione presso la sede di Martina Franca proprio perché volevamo dare tanto un segnale a una regione che è molto forte dal punto di vista di iscritti per il sindacato e oltretutto perché questo è un momento storico importante dato che è stata appena approvata la legge sui sindacati militari ed è stata appena pubblicata nella gazzetta ufficiale e questo ci richiede a noi adesso un lavoro e uno sforzo di analisi per poter adeguarci alle nuove disposizioni di legge e poter far sì che il Siam possa procedere e lavorare ancora con maggiore energia e maggior forza insomma per i sindacati inizia una nuova era anche per il Siam e per i suoi tesserati in volo verso un futuro di maggior tutela del lavoro e dei diritti e parliamo adesso di un importante cambio di comando per la Marina Militare a Taranto ieri si è svolta a bordo di nave Martinengo ormeggiata alla stazione navale di Mar Grande la cerimonia di avvicendamento del comando dell'operazione Mare Sicuro un'operazione che prevede il dispiegamento di un dispositivo aeronavale atto a garantire attività di presenza sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello stretto di Sicilia allo scopo di garantire la libertà di navigazione nell'area a questo scopo il dispositivo nazionale opera in piena sinergia con i gruppi aeronavali presenti nel Mediterraneo sotto legida della Nato dell'Unione Europea e dei paesi partner alla presenza del comandante in capo della squadra navale ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis il contrammiraglio Luca Pasquale Esposito ha ceduto l'incarico di comandante tattico all'ammiraglio di divisione Vincenzo Montanaro e nelle prossime edizioni vi faremo ascoltare anche le interviste che abbiamo realizzato nel corso della cerimonia andiamo a Lecce adesso nuovo restyling in vista per l'anfiteatro romano presentato il progetto in odore di promozione turistica e culturale è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di restauro riduzione delle vulnerabilità e miglioramento dell'accessibilità nonché di messa in sicurezza del percorso di visita dell'anfiteatro romano di Lecce uno dei siti della direzione regionale Musei Puglia l'istituto del ministero della cultura che gestisce 15 siti tra musei castelli e aree e parchi archeologici statali in Puglia e un nuovo progetto dell'area di Piazza Santo Ronzo adiacente il sedile i servizi essenziali le opere di restauro delle strutture con soluzioni innovative per il consolidamento delle arcate esterne e una diffusa opera di protezione del monumento sono i dispositivi che permetteranno al sito di riappropriarsi della propria dimensione sociale tornando a ospitare i visitatori tutto il progetto è stato presentato in una conferenza stampa alla presenza anche del sindaco Carlo Salvemini la gara il cui termine di presentazione delle offerte scadrà il 22 giugno sarà affidata entro ottobre 2022 a partire da quella data i lavori potranno cominciare per poi concludersi a luglio 2023 quando è prevista la riapertura del sito sotto una veste completamente rinnovata al costo di 5 euro al netto delle gratuità di legge nel percorso di visita sarà incluso anche il vicino teatro romano di cui è in corso di perfezionamento il passaggio dalla sovrintendenza direzione regionale musei e questo quindi il cronoprogramma fissato dalla direzione regionale musei Puglia a capo dei lavori da realizzare in stretta sinergia con la sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Lecce e le sue professionalità di concerto con l'amministrazione comunale della città e adesso linea alla regia torneremo in studio tra poco con nuovi e interessanti servizi e riprendiamo dunque in studio sempre con l'appuntamento con Antenna Sud News e adesso parliamo in particolare di un parco letterario intitolato a Maria Teresa di Lascia è stato siglato il disciplinare con le linee guida per la costituzione alla presenza dei primi cittadini coinvolti abbiamo deciso di puntare su un parco letterario primo perché è il primo in Puglia poi perché è un valore aggiunto su tante cose per noi che già stiamo lavorando tanto sul turismo e tanto abbiamo fatto fino ad ora bovino in primis da 20 anni a questa parte un parco letterario intitolato a Maria Teresa di Lascia per omaggiare qualità e l'ascito culturale di una figlia dei Monti Dauni che a quei territori ha portato in dote anche un premio strega nel 95 l'iniziativa è nata dall'azione dei comuni dell'Unione la delibera di giunta e del maggio scorso ma nelle scorse ore è stato siglato il disciplinare con le linee guida per la costituzione della struttura alla presenza della delegata di giunta regionale grazie di Bari a Cadea a Cadea a Anzano Bovino Candela dell'Iceto Monteleone Orsara Panni Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia insieme per onorare la memoria di una scrittrice appunto ma anche per un'idea di turismo che non sia soltanto quello del mare attraverso la cultura si può sicuramente veicolare la riscoperta dei nostri territori quindi dare proprio una risposta chiara a quello che sarà poi la possibilità di non essere più comuni marginali ma entrare a far parte attraverso questo turismo intelligente di persone che conoscono bene la cultura e vogliono riscoprire i luoghi dove questi autori questi scrittori hanno vissuto ecco questo è l'intento del Parco e parliamo adesso di terziario e agricoltura che sono stati al centro di un incontro alla Camera di Commercio di Lecce alla presenza degli assessori regionali Leo e Dell'Inoci terziario e agricoltura sono stati al centro di un incontro alla Camera di Commercio di Lecce alla presenza degli assessori regionali Leo e Dell'Inoci e proprio la collaborazione tra istituzioni e privati potrà fare la differenza per garantire uno sviluppo importante delle aziende del territorio sono giornate importanti queste perché poi si mettono a fuoco i veri problemi quelli che emergono dal territorio noi cercheremo indubbiamente di alzare il livello delle competenze delle conoscenze e di dare risposte importanti anche per quanto riguarda questo disallineamento tra domande e offerte di lavoro stiamo provando a costruire una filiera unica economica che vada dall'agricoltura al turismo alla formazione e che ci sia una strategia strutturata che consenta anche di affrontare mercati internazionali di superare questa parte di crisi e perché no valorizzare tematiche nuove che possono essere un'opportunità di sviluppo come il tema della green economy il tema blue economy per i settori tradizionali ci saranno risorse importanti per il territorio su quale gli imprenditori potranno contare guardi solo il nuovo FESRA va a oltre 6 miliardi di euro c'è i fondi del PNRR c'è i fondi del nuovo PSR quindi c'erano importanti risorse ora bisogna sviluppare i progetti concreti ed è ancora il turismo al centro della nostra attenzione con 5 itinerari come i sensi Open Days nei centri di Alberona Biccari Lucera Roseto Valfortore Troia l'appuntamento è dal 23 al 26 giugno prossimi di un target di persone che amano un turismo lento che amano stare tranquilli e immergersi nella natura quelli che non amano fare il bagno nel mare amano sicuramente fare il bagno nel verde dei nostri Monti Dauni 5 itinerari tanti quanti sono i sensi cantine concerti escursioni alle quali accedere gratuitamente registrandosi al sito internet dedicato Open Days nei centri di Alberona Biccari Lucera Roseto Valfortore Troia l'appuntamento è dal 23 al 26 giugno prossimi non un fatto museale ma un patrimonio da mettere a frutto puntando sulla coesione di 29 comuni del territorio si tratta di un festival itinerante che ha come filo conduttore il turismo rurale spiegano i primi cittadini coinvolti obiettivo promuovere la scoperta dell'area dei Monti Dauni come meta autentica e sostenibile anche attraverso un cartellone di eventi naturalistici e no gastronomici e culturali rigorosamente all'interno dei borghi invito tutti ad andarli a visitare sono bellissimi i borghi dell'area interna foggiana io ci sono stata e vi garantisco che sono dei piccoli gioielli dei piccoli tesori da scoprire attraverso questo evento lo faremo attraverso i nostri cinque sensi scopriremo cinque borghi quindi attraverso il gusto l'olfatto la vista il tatto potremo avere la piena percezione delle bellezze dei Monti Dauni questo deve essere un nuovo punto di partenza per il nostro territorio dobbiamo lavorare assieme Lucera e i Monti Dauni perché veramente si può fornire una proposta turistica di tutto rispetto ma davvero completa e adesso parliamo di musica di grande musica perché addirittura Zucchero è stato a Taranto ha visitato a sorpresa la cattedrale di San Cataldo e ha suonato l'antico organo seicentesco l'ha suonato con delicatezza e ammirazione esprimendo il proprio stupore per la bellezza dell'antico strumento il grande Zucchero una delle star più famose della musica internazionale ha fatto una visita a sorpresa alla cattedrale di San Cataldo di Taranto dopo aver raggiunto la provincia ionica per un concerto che lo ha visto protagonista le cantine San Marzano di cui abbiamo parlato nei nostri telegiornali e sui nostri siti con grandissimo successo di visualizzazioni Adelmo Fornaciari ha raggiunto il Duomo di Taranto accompagnato da Don Emanuele Ferro parroco della città vecchia Elena Modio del giornale diocesano Nuovo Dialogo e dall'operatore culturale Luca Damo il popolare artista ha rimarcato la bellezza della cappellone riaffermando di non conoscerlo poi Zucchero si è incuriosito per la presenza dello splendido organo monumentale del 600 che di recente aveva subito un'opera di restauro e non ha resistito al desiderio di mettersi a suonare complice l'invito di Don Emanuele La sua giornata tarantina è terminata con la visita alla cripta e un saluto veloce agli operai che si stanno occupando del restauro della basilica come vediamo nei video e nelle foto pubblicati dal giornale diocesano e adesso andiamo invece a Bari dove sta per partire la festa del mare da giugno a settembre un ricco cartellone di appuntamenti una lunga estate aspetta i baresi e i turisti che sceglieranno la Puglia e il capoluogo per trascorrere le loro vacanze da giugno a settembre la città ospita la quinta edizione della festa del mare promossa da Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Bari e realizzata da Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito del protocollo di intesa 2022 con Puglia promozione un ricco cartellone di eventi nel calendario si fondono la quarta edizione del premio Nino Rota Torre a Mare il 19 e il 20 agosto la quinta edizione del Bari Piano Festival dal 21 al 29 i due concerti di Bari in jazz davanti alla Basilica di San Nicola Torre a Mare il 2 e il 18 agosto e il concerto in anteprima del Locus Festival il 18 giugno nello spazio antistante il faro borbonico nel porto di Bari infine il 2 settembre a Santo Spirito con il concerto di Mirko Signorile stiamo per partire con un cartellone straordinario cominciamo il 18 giugno con Alt J e finiamo i primi di settembre con Mirko Signorile quindi dalla musica internazionale ai grandi operatori e artisti del territorio che ormai hanno una fama internazionale la grande musica di Bari Piano Festival che ormai ha raggiunto anche un riconoscimento internazionale importante di cui parleremo oggi premio Nino Rota giunge alla quarta edizione e valorizza anche il territorio di Torre Amare dove Nino Rota ha vissuto e premia gli operatori e gli artisti della musica contemporanea per immagini e quindi delle grandi serie tv ma soprattutto i grandi musicisti del territorio che continuano a valorizzare sempre di più l'arte della musica è un cartellone che realizziamo ormai da 5 anni grazie al sostegno della regione Puglia che non è solo un sostegno economico è una condivisione strategica di strategie politico-culturali che si uniscono nella direzione del spostamento della vocazione turistica della città sempre di più a metà culturale e nel 2022 arriva in Puglia anche la prima edizione della festa di lega ambiente festa ambiente 5 scusate di festa ambiente 5 le tappe in programma di altrettanti territori festa ambiente 2022 sbarca in Puglia prima edizione del festival targato lega ambiente il cui scopo è quello di porre l'accento sull'importanza di parchi ed aree protette a 30 anni dalla legge quadro nazionale 394 e 24 dalla norma regionale 19 fondamentale è soprattutto la sensibilizzazione di cittadini enti e di istituzioni 5 le tappe previste in altrettanti territori si parte da Nardò il 17 giugno per poi passare da Ostuni Martina Franca Canosa di Puglia San Ferdinando e Biccari diversi anche gli artisti a sostegno del progetto Boccasile Maretti Simona Bencini Sagi Rei Serena Brancale Kelly Joyce di Radio Dervish sicuramente ci sono dei cittadini molto più attenti e molto più sensibili anche questo grazie ai più giovani le fasce più giovani che attraverso le scuole continuano a mantenere il rapporto sulla tutela ambientale quindi anche grazie alle attività che l'Egambiente fa costantemente ormai da 40 anni su tutti i territori c'è ancora tanto da fare le amministrazioni soprattutto devono spingere per fare bene la raccolta differenziata ma soprattutto per tutelare le nostre spiagge perché molto spesso si continuano a trovare rifiuti sulle spiagge circa 700 rifiuti per ogni 100 metri lineari è importante tutelare il nostro mare i nostri territori perché è un patrimonio che dovremo dare ai nostri figli e alle future generazioni e chiudiamo con Taranto dove l'archistar Franco Purini è stato l'ospite d'onore del nuovo appuntamento con il MAP Festival inaugurata una mostra in suo onore al Museo Archeologico di Taranto è stato l'architetto di fama internazionale Franco Purini il nuovo protagonista della MAP Festival rassegna di musica architettura e parallelismi è intervenuto all'inaugurazione della mostra dedicata alle sue opere e realizzata nel Museo Marta con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti di Taranto c'è stato un Alexio Magistralis e la taglio del nastro per l'archistar la mostra Il Sacro di Purini è stata curata da Ubaldo Chinegro Giuseppe Fallacara Eva degli Innocenti e Piero Romano nel corso della sua Alexio Purini ha mostrato una ricca galleria di opere idee originali e soluzioni innovative in campo urbanistico progettista della Torre Euroscai il più alto edificio civile di Roma e una delle torri residenziali più alte d'Italia durante la lezione Purini ha avuto modo di confrontarsi con l'arte millenaria esposta nel Museo Archeologico I lavori introdotti dalla direttrice del Marta Eva degli Innocenti hanno ospitato fra gli altri la Presidente dell'Ordine degli Architetti Paolo Bruni e la Commissione Cultura con gli architetti Tiziana Latorre Romina Occhinegro e Angelo Campo il MAP Festival proseguirà fino al 18 giugno e si chiude così questo primo appuntamento della giornata in diretta con l'informazione di Antenna Sud News ringraziamo in regia Sebastiano Bufalo che è stato con noi e tutti voi per l'ascolto che ci avete dedicato ma restate sulle nostre frequenze perché tra pochi istanti ci sarà l'appuntamento quotidiano del mattino con la nostra rassegna stampa rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social